Bella a tutti ragazzi, sono Lucas, siamo su Blur, continuiamo... Allora... L'ultima volta ho battuto questo, ho messo come si chiama, aspettate... Ehm... Rhymer E niente, adesso siamo su Schianto Furioso con Drake Ok Dunque ragazzi... Ah, abbiamo... Ehm, quante... No, tutte gare di istruzione raga, tutte gare di istruzione sono Oh mamma mia santa Vabbè, pensiamo un attimo a vedere le auto che abbiamo qua Questa l'avevo sbloccata Che figata Sembra tipo quelle auto là, tipo surf Ah, voglio provare questa Va Il 14, proprio l'auto più scrausa della classe B che ho finora La uso io perché... perché sì Ehm... Boh Andiamo un po' 120 punti Per fare... per arrivare primo devo fare 120 punti Cioè rendiamoci conto, eh È un casino allucinante Va bene Cazzo veloce però, ragazzi... È veloce, mamma mia No, no, adesso non prendere più le... le armi... e inizio già stile raga... ma è possibile? Ah, merda Mi sento un attimo perché sono un casino a spiegare Perché no? Cioè l'ho lisciato Vabbè 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 No 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 Che sfiga Verda 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 Che sfiga, verità Eh Ma sta mangiando qui Ah NON 97 punti Volendo ce la posso anche farne Però Soprattutto Vevo Sono stanto sicuro Eh, bocca È praticamente morto Perfetto Va avanti sta macchina Merda felice 108 punti C'ero quasi Volendo la potrei anche rifare Che non sono andato poi così male Ho notato una cosa Vi spiego un attimo Per gli ultimi boss L'ultimissimo boss Devo conquistare tutte E ripeto tutte le luci Tutte E' praticamente inammissibile Come cosa Quindi probabilmente mi scarico i save game Io lo dico già Molto probabilmente mi scarico i save game Perché sennò non ce la faccio ragazzi Sennò è davvero un casino Assurdo Non ce la faccio veramente Ci sono delle sfide che sono impensabili Cioè Preferisco i save game Avanti che coglione No 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 Impossibile Non ne prendo uno Ma Prendete un giro Il lavoro Era Merda Merda Infatti facciamo anche il sub Attenzione Raga Merda Merda Sfida Eh Eh Sì sì bomba No niente ragazzi E' assurdo adesso Sto sfida qua No niente Eh ma adesso iniziano le sfide toste E diventa un casino qua Mi sa che mi devo prendere in posi Mi si vengia adesso perché sennò Complimenti Ora puoi accedere a Tocco di Mida E questo è il regno di Talon Talon è un pilota nato Può raggiungere tranquillamente la testa del gruppo anche senza potenziamento Grazie C'ha una scivroleta e una madonna sotto Ah però fatemi fare un attimo i calcoli Ogni cosa c'ha 55 10 20 30 40 Ah no Boh vabbè ma allora non ho bisogno dei potenziamenti Io credo che per arrivare all'ultimo Dovevo sbloccare Dovevo fare 450 luci Ah boh Allora ce la facciamo ragazzi E allora ce la facciamo sì Però aspettate perché qua vorrei Vabbè niente dai la lasciamo così allora per ora Scusate per Questo gameplay è un po' confuso Niente ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Comunque anche se è un po' confuso Mettete un bel mi piace Commentate condividete Iscrivetevi Seguite il video Il canale e le playlist Ma soprattutto divertitevi Bye a tutti ragazzi Bye look Al prossimo video di Blur Bye la raga